Siamo con mister De Feo, un ottimo primo tempo, poi qualcosa si è inceppato nella ripresa con un nome in più mister. No, non è che si è inceppata. Abbiamo concesso solo il tiro del gol. Abbiamo comunque avuto 3-4 palle gol e non siamo stati bravi a finalizzarle. Abbiamo concesso quasi niente. Se andiamo a fare un'analisi della partita, togliendo il rigore nel primo tempo, che non sto qua a discutere se c'è o non c'è, nel secondo tempo solo su un cross in aria, non hanno fatto questo gol e poi non abbiamo mai concesso neanche un tiro in porto. Siamo stati sfortunati perché abbiamo creato 6-7 palle e golle. Purtroppo oggi non abbiamo portato a casa 3 punti che forse alla fine meritavamo anche. Cosa cambia per voi con questo pareggio? Non cambia niente. Nel senso il percorso è ancora lungo. Lo sapevamo già, l'ho sempre detto, anche nei momenti in cui avevamo fatto 9 vittorie consecutive. Quindi c'è la possibilità ancora di un girone di ritorno. Mercoledì ci prepariamo per andare a affrontare questa partita importante di recupera Paola. E quindi dobbiamo solo rimetterci in carreggiata e cercare di portare a casa almeno questa vittoria. Mercoledì speriamo di andarcela a giocare a Paola e portare a casa questi tre punti. La reggiamo con Natale e Annì impeccabilmente investito. Si salutano i due allenatori, autori quest'oggi di una prestazione eccezionale che ha onorato e gratificato il gioco del calcio. Natale, complimenti. Una splendida prestazione soprattutto nel secondo tempo quando si temeva che la squadra in 10 potesse soccombere. No, questa squadra è una squadra fatta di uomini, non può soccombere in determinate situazioni, soprattutto in queste dove c'è stato proprio lo scempio di quello che è una situazione di calcio. Io inviterei tutti quelli che mi stanno ascoltando di andare a rivedere quell'azione, ma se la faranno sul computer, sul telefonino, la devono rifare più volte. Ovvio un giocatore non ha nemmeno preso l'avversario, non era ammonito, eravamo a tre quarti campo, la palla è andata fuori. Sono considerazioni che vanno fatte, gli albitri purtroppo possono sbagliare, io non è che dico che sbaglia a posto. Ma devono essere aiutati anche dei segnaline. Non può prendere una decisione affrettata di quel genere per pregiudicare una partita importante, perché questa non era solo una partita, era la partita dell'anno, era la partita che potrebbe pregiudicare un campionato intero, ma per tutte e due. E capitata a noi potrebbe capitare anche a loro. E quindi è una situazione da mettere i piedi per terra, perché più volte vedo che in questa categoria c'è una situazione con gli albitri che non è molto chiara. Ma non a discapito mio, a discapito di tutti, perché secondo me la classe arbitrale lascia un po' desiderare. Ci vorrebbe di più una collaborazione, in questo caso siamo stati penalizzati, però il gruppo di uomini che ho io non poteva lasciarmi a piedi, assolutamente. C'era da dare un passaggio e l'abbiamo dato tutti.